Costerà 5,92 euro il buono pasto per la maggior parte dei bambini. La nuova tariffa fa riferimento alla fascia ISEE oltre 22.000 euro di reddito. La mensa delle scuole pescaresi sarà nuova soprattutto perché promuove il consumo dei cibi biologici e sostenibili per l'ambiente, ha rimarcato Santilli, e a costi contenuti. Dall'euro in più annunciato qualche mese fa, il costo di un caffè, aveva detto in conferenza stampa lo stesso ossessore, a un euro in meno. Abbiamo agevolato quelli che hanno più figli, quindi come avevo già detto avrei riaffrontato il problema e assieme al gruppo di maggioranza e al sindaco abbiamo instaurato dei nuovi prezzi. Le tariffe ridotte saranno applicate ai nuclei con due più figli. Il costo del buono pasto in questo caso sarà pari al 70% della tariffa intera, dai 18.000 ai 21.000 euro. Il buono costerà 4,14 euro, le famiglie con un solo figlio pagheranno 4,74 euro. Per la fascia di reddito più bassa, cioè dai 6.000 ai 12.000 euro, si prevede un importo fissato a 2,96 euro. La prima cosa è questa per noi, la salute dei nostri bambini ed è una mensa altamente qualificata, quindi ci sarà il nuovo gestore che partirà dall'8 gennaio. La risposta alle opposizioni prosegue l'assessore nella concretezza del fatto che siamo riusciti a reperire i fondi, anche se con qualche sacrificio. Attualmente abbiamo stanziato 250.000 euro. Se ci sarà necessità e ci sarà la possibilità, daremo la possibilità alle nostre famiglie, ai nostri bambini, di mangiare sempre meglio e usufruire nel migliore dei modi della mensa della nostra scuola. Era stato sollevato anche un problema per i bambini che vengono da Montesilvano e Francavilla. È stato poi risolto? Allora, io mi sono relazionato con sia il sindaco di Montesilvano che con il sindaco di Francavilla. Loro mi hanno risposto. Perché questi bambini vengono a mangiare la mensa di Pescara quando noi abbiamo le nostre menze? Quindi loro continuano a ripetere che il costo fatto dal comune è giusto, però loro danno la possibilità ai residenti sia di Montesilvano che di Francavilla, che sono quelli che vengono di più da noi, di agevolarli loro personalmente. Grazie.